Il festival è un nuovo modo di incontrare la Bibbia, ma anche un laboratorio culturale che si rivolge a tutti, allo scopo di rendere attuali le scritture, proponendo esperienze per riflettere e confrontarsi. Per realizzare tutto ciò abbiamo bisogno di comunicare con parrocchie, associazioni, gruppi e scuole, da cui nasce Azionariato Diffuso, un modo per vivere e sostenere il festival. Ciao, io sono Francesco, ho 28 anni, sono laureato in Economia, mi occupo della campagna di azionariato diffuso. Mi piace la cura del dettaglio perché è nel dettaglio che si nasconde la bellezza. Una storia così vale la pena di essere raccontata, dall'inizio alla fine, in ogni sua sfaccettatura. Per questo Festival Biblico è social, incontra tutti attraverso parole ed esperienze di valore. Io sono Lorenzo, ho 23 anni e per Festival Biblico mi occupo della parte di comunicazione, supporto la responsabile della comunicazione e mi rapporto soprattutto con il gruppo che organizza iniziative per i giovani e curo la parte social. Festival Biblico, quindi, ha cambiato il modo di comunicare, attraverso occhi che colgono e ricercano bellezza, mani che hanno prodotto un acquarello nuovo e leggero. Io sono Alice, sono laureata in archeologia e da sempre disegno, esco da una formazione artistica e da quest'anno sono l'illustradrice del Festival Biblico. Francesco, Lorenzo e Alice sono importanti per il Festival Biblico. Sostieni anche tu il loro lavoro.